Noi alcuna, guarda un sete, guarda un filo, non le viste. Prego signora, posso signora? Oggi lo stiamo a prezzare? Come no? Mi manca di altre. Prego signora, abbiamo colonizzato il mercato. Trazolini, siamo un altro mercato e i gazebi della Lega per la raccolta firme sono sempre pieni. infatti io sono scortese con voi sto twittando e facebookando perché voi dicono no la Lega ci sono tre gazebo degli altri partiti tristi, vuoti ma ma che roba ma che roba che la gente che dice fate in fretta fate in fretta fate in fretta fate in fretta che dominga di te però è così questa mattina la Fornero, la Merlin, l'immigrazione io non riesco neanche, abbiamo finito i libricini sull'euro, abbiamo finito hai viste le borsine in anteprima? arrivo arrivo, sono da te ah che belle non sono cinesi sono bene, ma finite finite, adesso vediamo se riesco a finire a mettere l'immagine su grazie comunque grazie ai militanti e poi ai cittadini che capiscono che vogliono, che aiutano, che partecipano basta, spettacolo parlano da soli le immagini va bene così la squadra libricini, forneri e borse ci siamo dai, va bene buongiorno Salvini alto e magro e con gli occhi azzurri e con gli occhi azzurri non c'è niente ragazzi aoscurri buongiorno grazie grazie buongiorno 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 anche se Renzi è più bello grazie buongiorno buongiorno un libricino sull'euro buongiorno è ora di eliminare lo mettete alla casera del vicino di casa del capisnagro è ora di eliminare tranquilla, le do io un sacchetto gruppo di fuoco ricomponiamo lo schema la zona basta euro che viene ancora perché questi li finiamo dai va bene non lo firma, riprendi lo spettacolo invece meno male la firma qua no, non ho ancora stampatello no, no, come firma lei di solito signora, come vuole qua sotto, qua sotto qua di fianco perfetto va bene qua? sì, sì, esatto grazie a tutti 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 grazie a tutti